ecco ci siamo in campo siamo ansiosi di conoscere un pochino meglio come funziona questa nuova mini motosega la gx in casa farmacia agricola compattissima un gioiellino un chilo e 100 spragata 10 centimetri 26 maglie un quarto p 1,1 mm quindi la stessa identica lama che monta la gta 26 della steel addirittura possiamo intercambiare con una lama steel ora tenderemo un attimo di più la catena tendi catena e manuale basta fare questo piccolo movimento e lasciare la catena leggermente libera un gioco di circa 23 mm sul dente della catena speriamo bene doppia batteria da 16 volt batteria ioni di litio doppia 16 volt da ben due ampere cada una impugnatura super confortevole robustissima come prodotto gomme morbide per un grip perfetto l'incastro straordinario accensione sui display led i quattro led che ci indicano la carica ovviamente tutti i sistemi di sicurezza del caso per avviarla pulsante di sicurezza e grilletto andiamo a vedere un pochettino come come si comporta questo gioiellino questo giocattolino in casa farmacia agricola vediamo un pochettino come si se la cava con la potatura seguiteci siamo in un giovane oliveto posto perfetto per poter utilizzare questo nuovo genellino prima dell'utilizzo ovviamente tutti i dispositivi di sicurezza necessari e iniziamo alla lubrificazione della lama con olio ecologico una volta lubrificata la lama la macchina è materialmente pronta per l'uso come dicevo poc'anzi tasto di sicurezza e andiamo a potare l'oliveto è sicuramente il posto migliore in cui provare questa nuova motosega bellissima perché estremamente compatta iniziamo subito tasto di sicurezza una velocità di taglio straordinaria 250 watt si taglia il tutto con una velocità pazzesca la catena compasso micro riesce a fare un taglio veramente pulito in pochi decimi di secondo veramente riusciamo a fare una potatura perfetta qui c'è un altro pollone lo andiamo a rimuovere ecco qua è un pollone diametro circa quattro centimetri sblocchiamo la motosega andiamo a fare il taglio nessuna esitazione nessun rallentamento eccolo che il taglio è stato effettuato veramente in pochi pochi secondi la cosa che piace tantissimo di questa macchina è la compattezza sta letteralmente nel pugno di una mano e ha una velocità senza eguali 250 watt un motore brushless senza spazzole con questa macchina veramente possiamo fare qualunque tipo di lavoro di potatura con zero sforzi in dotazione ci danno già due batterie togliamo questi altri polloni c'è questo moncone che ci hanno lasciato negli anni passati qui abbiamo un diametro che sarà sicuramente una quindicina di centimetri vediamo come se la cava la nostra motosega facendo più tagli la segatura viene su passiamo all'altra parte la cosa particolare di questo taglio è che è decisamente enorme più del doppio rispetto alla dimensione della stranga quindi ci sto giocando ma sento la lama che entra senza difficoltà ecco qui abbiamo effettuato un taglio importante veramente grande con una facilità estrema con una facilità estrema bellissimo una macchina bellissima da veramente soddisfazione proviamola con la legna a terra qui abbiamo sicuramente più di 15 cm anzi giusto la lunghezza quello che riesce a fare questa motosega è veramente qualcosa di straordinario tempo che tira diamo qualche goccia di lubrificazione alla spranga alla catena questo è un legno di susina quindi un legno molto duro 15 e3 della sinistra aspettiamo una vera e propria prova di endurance di resistenza vediamo cosa c'è un po' ho affettato letteralmente una pianta di susino a fondo a fondo impressionante impressionante questa è una bifurcazione legno durissimo è fantastica è una macchina fantastica giusto il tempo di rilubrificare la lama e ricominciamo è una macchina che dà grosse soddisfazioni è robusta e compatta nel nodo vai nella disportazione la sto trattando malissimo la sto trattando malissimo non scalda non da esitazioni non da azione di rallentamento ma soprattutto il veloce con la giusta pressione continuo a tagliare continuo a tagliare continuo a tagliare senza nessuna forma di esitazione ok la sto trattando la sto trattando la sto trattando la sto trattando la segatura viene fuori che è una bellezza tagli piccoli tagli grossi 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 non trasmette vibrazioni vabbè quanti tagli che stiamo facendo è impressionante quello che siamo riusciti a fare è impressionante ho fatto una marea di tagli letteralmente una marea di tagli la marea di tagli letteralmente la marea di tagli letteralmente il verdetto con una sola batteria abbiamo fatto un centinaio di questi tagli più altri molto più piccoli con una sola batteria la macchina non ha scaldato affatto non ha dato nessun tipo di problema è leggerissima e comodissima la cosa particolare è che tagli del genere avrebbero potuto mettere in difficoltà anche una motosega a batterie di quelle diciamo più professionali questo è un legno di susino è un legno durissimo su nodi addirittura la macchina non ha esitato assolutamente ripetiamo 252 watt una cosa mostruosa 16 volt di potenza assorbita motore bracelet senza spazzole un sistema semplicissimo di montaggio e smontaggio catene spranga la lubrificazione la lubrificazione che viene fatta mediamente ogni 30 40 tagli in dotazione nella confezione trovate le due batterie litio da 2 ampere da 2 ampere piene quindi delle batterie ad alta capacità il caricatore la chiave per smontare la spranga nel caso in cui dovesse essere utile la catena da 26 maglie un quarto p 1,1 e la stessa che vendiamo e che abbiamo disponibile presso il nostro magazzino per le gta 26 quindi la stessa antica catena che monta la steel come passo e dimensione in questo caso monta quella in dotazione e nella confezione ovviamente troverete il flaconcino di olio lubrificante ve ne bastano poche poche gocce ogni volta che si effettua la lubrificazione il verdetto è veramente positivo questa macchina veramente sorprende per il piccolo la piccola azienda la media azienda l'amatore per chi deve effettuare piccole attività di potatura una macchina indispensabile per chi ha voglia di effettuare con zero sforzo zero fatica attività di potatura anche un po più intensive farmaciagricola.com se vi interessa questo attrezzo potete contattarci il numero è 0827 424 57 potete inviarci anche whatsapp allo stesso numero se siete interessati all'acquisto di questa macchina scriverci a info chiocciola farmaciagricola.com con una sola tra le due parole farmaciagricola.com siamo a vostra disposizione